domani cosa vuoi fare domani cosa vorresti fare dove vorresti andare a scuola scuola perché vorresti andare a scuola perché è un mio diritto e oltre a questo cosa cosa c'è cosa mi dice ogni giorno che a te cosa piace fare il pedagogico perché cosa vuoi fare nella vita l'insegnante di sostegno mara ha 15 anni e da grande vuole fare l'insegnante di sostegno mara va alla scuola pansini liceo classico di napoli che dista 25 chilometri da casa sua mara è cieca ma questo è un dettaglio che non dovrebbe influenzare i suoi diritti e i suoi sogni nei fatti però purtroppo lo fa il ansini è troppo lontano da casa nostra siccome la provincia non si fa carico di questo trasporto io in qualità di madre noi come genitori non possiamo far fronte ad una spesa troppo alta per noi per questo la madre di mara si è recata in un'altra scuola più vicina la matilde serao chiedendo la disponibilità ad ospitare la ragazza e sentite che cosa racconta a fanpage.it mia figlia ha gli stessi diritti degli altri ragazzi a scuola mi hanno risposto che loro non possono richiedere insegnanti di sostegno non funziona proprio così perché come dicevo prima è se avendo lo stesso diritto di un normo dotato anche un disabile ha diritto di integrarsi all'interno di una scuola a danno scolastico inoltrato la famiglia della ragazza ha fatto un ricorso al tar per assicurarle tutte le ore di sostegno che le servono eccolo qua ma questo evidentemente non è bastato ad assicurare alla giovane mara il diritto allo studio questa è la richiesta che io ho presentato alla preside che lei mi ha cortesemente rifiutato lei nel momento in cui io l'ho presentata lei mi ha dato il suo rifiuto ho chiesto alla preside di mettermi per iscritto sotto la motivazione e lei non ha voluto noi adesso iniziamo ad avvertire il provveditorato di quanto è successo vediamo che risposta ci dà e vediamo poi l'evolversi della situazione noi abbiamo provato a sentire anche la preside dell'istituto per ascoltare la sua versione purtroppo però c'è andata male sentite mi chiamo Gaia Pozza e sono una giornata perché dovevo parlare con lei mi scusa perché per il caso della signora della signora Sonia la mamma della ragazza non vedente che ha chiesto di iscriversi a scuola ma io questa signora non è che la conosco diciamo è venuta una signora che non si è mai identificata qua io non sono venuta a parlare per telefono con lei e nemmeno con una persona che quando viene nella scuola non si identifica e si comporta male che dire per chiudere questo servizio ci affidiamo alle parole di Mara che speriamo facciano breccia nel cuore delle istituzioni scolastiche cosa vorresti dire a chi dice che non c'è posto per te c'è che si devono vergognare e poi e poi che è un tuo diritto a fare cosa? è il mio diritto andare a scuola